Ultimo è quel gesto social che smentisce crisi con Giacue in luna di Giacomo. Solo pochi giorni il settimanale Chi, aveva lanciato l'indiscrezione che il cantante ultimo, reduce dal successo del Festival di Sanremo, e la fidanzata Giacue in luna di Giacomo, figlia di Eder Parisi, sarebbe giunta al capolinea. Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia unita dal 2021 si sarebbe detta addio da poco. Ma le cose non starebbero esattamente così. Proprio poco fa, infatti, il cantante, in occasione del ventitresimo compleanno di Giacue in, ha pubblicato sui social alcune foto che lo ritraggono al fianco di quella che a tutti gli effetti possiamo considerare ancora la sua fidanzata. Le immagini, risalenti alla scorsa estate, mostrano ultimo e la di Giacomo felici e affiati mentre si godono le vacanze. Tra un giro in motorino, un tramonto e un tenero abbraccio a bordo piscina. Come se non bastasse, la didascalia a corredo del carosello di fotografie pubblicate dal cantante sul suo profilo Instagram non lascia spazio a dubbi, vestiti come ti pare. Tanto tu riporti il sole dentro di me. Auguri bionda, sono state le parole che il quarto classificato del Festival di Sanremo 2023 ha voluto dedicare alla compagnia il giorno del suo compleanno. Attraverso questo gesto, dunque Ultimo ha voluto smentire ogni voce trappelata in questi giorni a proposito della fine della sua relazione con Giacomo e in Luna. Non solo, infatti, i due non si sono lasciati, ma appaiono più innamorati che mai. La storia tra il cantante e la figlia di Eder Parisi procede a gonfie vele da ormai due anni e ha già quell'inval merito di aver riportato il sorriso sul volto di Ultimo dopo la fine della sua lunga storia con Federica Lelli. La storia di Eder Parisi